Grande successo per il ritorno in tv del novizio Costanzo Show. La prima puntata è andata in onda ieri sera e all'apertura del sipario il pubblico ha fatto sentire tutto il suo calore con applausi e standing ovation. Il tema della puntata era la famiglia e tutti gli ospiti presenti in studio hanno parlato dei loro rapporti con mariti, mogli, figli e genitori. Forse la parte più divertente è stata quando Sabrina Ferilli, ospite insieme al papà, ha raccontato un aneddoto con l'ironia che da sempre la contraddistingue. Dieci anni fa ha detto mio padre mi ha convinto a comprare due loculi in un cimitero di Fiano. Io stavo con una persona con cui poi mi sono lasciata. Tempo fa continua a chiamare mio padre per dirmi che era morto il figlio di un idraulico che conosceva, un ragazzo molto giovane, ma che i genitori non avevano un posto dove seppellirlo. Il finale della storia hanno regalato uno dei miei fornetti, quindi quando sarà mi coricherò accanto ad un povero Cristo che manco conosco.